Io sono il mio regno e io sono il rabbit, la più forte. Spero che arrivino le guardie, le mie guardie del male che proteggono il mio libro incatenato in una stanza segreta. Spero che arrivino le guardie. Spero che arrivino le guardie. Ci vediamo alla prossima, alla prossima puntata.